Una macchia? No, le macchie non possono sporcare un tessuto marzotti macchia in lana Terital. Se ne vanno subito. Anche le macchie d'inchiostro? Certo, in un attimo. Un'altra macchia? No, su un tessuto marzotto antimacchia in lana Terital le macchie scivolano via. Anche le macchie di caffè? Certo, in un attimo. Ancora una macchia? No, su un tessuto marzotto antimacchia in lana Terital le macchie se ne vanno subito. Un tessuto marzotto antimacchia in lana Terital non ha paura delle macchie. Tessuti marzotto antimacchia Zeppel.